Festival Mix 2015 Siamo tantissimi noi Vai via dentro, dentro Dentro, dentro, dentro Perché siamo qua per il Festival Mix per difendere il Festival Mix e per essere con lei Franca Valeri a Milano Siamo con Franca Valeri a Milano Dalla nascita Sì, sì Però mi ha provato sempre avuta nel cuore mi è sempre piaciuto tornarci Forse anche il suo umorismo è un po' milanese, questo umorismo Forse sì, perché Milano ha cercato internazionale veramente ho problemi Grazie Ma quanto male Ma costa molto fare No Perché fare? No, c'è proprio stile Sì Perché abbiamo detto tutti vogliamo essere neanche al fianco dire tutti abbiamo questo umorismo centrato dentro Il cuore Io però vi devo interrompere questa trasfusione Buono spettacolo Buono spettacolo e grazie Arrivederci Ciao Grazie Grazie Ciao